Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno a tutti carissimi amici. Iniziamo questo giorno sabato 13 luglio con la preghiera cristiana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ame. Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha trasmesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, ame. Chiediamo a Maria Santissima di proteggerci e custodirci lungo l'arco di questa giornata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Potremmo sintetizzare il Vangelo di oggi in queste parole del Signore. Non abbiate paura. Parole molto semplici, ma che sono sufficienti e si commentano da sole. Non abbiate paura. Ecco, anche la Santa di oggi davvero non ha mai avuto paura, perché era forte della fede in Cristo. La Santa di oggi è Santa Clelia Barbieri. Veniva da Bologna, vissuta nel 1800, una ragazza che si è consacrata nella verginità e ha fondato poi un ordine religioso, le minime della Vergine addolorata. Volentieri oggi vi darò la benedizione per intercessione di Santa Clelia Barbieri, patrona dei catechisti, con una reliquia. Perché abbiamo una reliquia di Santa Clelia a noi qua. Ecco, è molto semplice, perché il miracolo che ha portato alla canonizzazione di Santa Clelia Barbieri riguardava una ragazza molto malata, che appunto ha ottenuto una guarigione ritenuta miracolosa dalla scienza e dalla Chiesa. Ecco, il papà di questa ragazza è ancora vivente, è anziano e abita in una delle nostre otto parrocchie qui in Friuli, di cui io sono vicario, non sono il paroco, sono il vicario e l'aiutante. Abbiamo queste otto parrocchie. In una di queste otto parrocchie vive ancora il papà di questa ragazza miracolata da Santa Clelia Barbieri. Ecco, fino a poco tempo fa ravviva anche la mamma, è già salita in cielo, è raggiunto proprio la figlia che comunque anche dopo il miracolo ha dovuto lottare ancora contro altri mali e ha portato una croce molto pesante, ma l'ha portata ecco con la consapevolezza che la malattia non è l'abbandono di Dio, perché lei era stata guarita dalla malattia ogni primo momento, aveva avuto la conferma che Dio c'è e è al suo fianco e poi ha trovato la forza di risalire il Golgotha e venire inchiodata proprio sulla croce, ma con la consapevolezza di entrare nel paradiso. Davvero una grande testimonianza che volentieri condivido con voi, anche immaginando magari tante famiglie in cui c'è la croce della malattia, anche nella mia casa purtroppo l'hanno sperimentata, ecco nella mia famiglia, ma ecco nella fede tutto ecco si può vincere, perché la fede ci fa vedere fino nel cielo e nel cielo c'è soltanto gioia, per cui anche se in questa vita pattiamo, noi aspiriamo ad una gioia più grande, intramontabile, che è molto più grande anche della salute stessa. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione di Santa Clelia Barbieri, Vergine, vi benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio.